Aiuta a regolare. Il biancospino ha il potere di distendere. Io associo questo fiore alla primavera, alla freschezza. Il biancospino aiuta a regolare le pulsazioni del cuore in chi è iperteso, allenire le infiammazioni della bocca a tanti poteri rasserenanti e rilassanti. Io voglio bene al biancospino. Perché? Commento. Perché sin dalla poesia del Pascoli sei sensibile alla forma pensiero che nutre la fama del biancospino. La forma pensiero che cos'è in fondo? È il risultato di ciò che pensa la gente di una data cosa. E la gente atavicamente pensa bene del biancospino.